Sarà in due lotti, uno per il trasporto urbano e uno per quello extraurbano. Pubblicato oggi il tanto atteso bando per il trasporto pubblico locale al centro degli strali di politici e sindacati. Appena in tempo, prima che scadesse il termine del 31 dicembre, si perdesse la fetta di finanziamenti pubblici. La gara in due lotti non è una scelta, ma si tratta di rispettare la legge, ha ripetuto il presidente della provincia. E nulla esclude che si possa virare in corso d'opera a lotto unico, con il parere in questo senso dell'autorità. Che se ci darà parere favorevoli, noi potremmo virare e arrivare a un lotto unico. Quindi grande disponibilità da parte nostra. È logico che le leggi sono fatte per essere rispettate. Sulla possibilità del bando sdoppiato erano insorti in tanti. Primo tra tutti Michele Bertucco, che non più tardi di ieri si era schierato con il presidente di AMT, Francesco Barini, e molto critico sulle responsabilità della provincia. Ricordiamoci anche che coloro che si stracciano le vesti adesso e si repono paladini dell'ultima ora, erano gran parte di questi, tre anni fa, erano quelli che non volevano l'affidamento in ausa, che sarebbe stata appunto la soluzione migliore. Il consigliere provinciale delegato ai trasporti, che con un emendamento aveva cercato di scongiurare l'ipotesi dello spezzatino, chiarisce che nel bando c'è una misura per la tutela dei lavoratori. Nel disciplinare di gara abbiamo previsto che chiunque vinca ATV o un soggetto diverso da ATV, di piccole, grandi, medie dimensioni, avrà l'obbligo di assumere tutti i dipendenti che attualmente fanno servizio di trasporto pubblico locale in ATV, con il loro contratto collettivo nazionale e con un contratto decentrato di livello pari o superiore di quello che hanno.